Verso le 17 di ieri pomeriggio si sono presentati in capineria dei bagnanti delle signore che avevano con loro un bimbo di circa 5 anni. Spaventatissimo, anzi direi scioccato addirittura, dicendo che non trovava più i genitori, non trovava più la mamma. Immediatamente io per primo mi sono alzato dalla scrivania, ho allertato tutti gli uomini e nel giro di pochi istanti c'erano circa una trentina di persone della cabineria in spiaggia per cercare i genitori di questo bimbo. Naturalmente abbiamo anche immediatamente allertato i colleghi dei carabinieri, della polizia, sono intervenute le relative pattuglie. Fortunatamente poi i miei uomini hanno trovato la mamma del bimbo che era in direzione raffineria oltre la conchiglia. E tutto si è concluso per il meglio, nonostante il bimbo si fosse perso da più di un'ora. Ora, questa volta è andata bene, dico io. Quello che raccomando sempre e quello che ho detto anche alla signora, vista anche la conclusione felice di questo evento, quando dovesse succedere, e spero che non succeda mai, e lo dico da papà, da genitore, a nessuno, ma se mai dovesse succedere che uno dei vostri bimbi si allontani, può capitare, perché i bambini certe volte attirati da un pallone, da qualsiasi cosa che ci può essere a mare, basta girare un attimo lo sguardo altrove e subito dopo non troviamo più nostro figlio. La prima cosa è allertare immediatamente le forze dell'ordine, chiamare il 1530, la Guardia Agostiera, ricordatevi che le nostre pattuglie sono sempre in giro, come ieri abbiamo agito nel giro di pochissimi istanti, nel giro di pochi minuti, si può fare ovunque questo. Le nostre pattuglie sono continuamente in giro, ci sono i nostri mezzi aerei che sorvolano in gela continuamente, l'avete visto anche nei giorni scorsi, quindi vi prego di allertare immediatamente il 1530, ricordo che anche chiamando al cellulare non risponde più la centrale operativa di Roma, ma rispondiamo direttamente noi perché si aggancia la cella del cellulare al compartimento di appartenenza e di fare molta attenzione ai nostri bimbi che sono al mare. Ricordatevi che il mare è qualcosa di meraviglioso, però deve essere sempre rispettato.